Sono i tuoi veri genitori, ti vogliono bene, ti aspettavano. Sofia e Carlotta, protagoniste del filo diretto con l'Arminuta, l'evento su Rete8 e il Centro, domani giovedì 9 dicembre dalle 15.30, a un anno dalla conclusione del film, tratto dal romanzo di Donatella di Pietrantonio, il Centro e Rete8 organizzano una diretta Facebook e televisiva per far conoscere a tutti e da più vicino Sofia e Carlotta e le bambine cresciute sul setta e divenute sorelle. Domani le due ragazze sono a disposizione del pubblico, attraverso le telefonate che saranno mandate in onda, le mail inviate e lette in diretta, l'Arminuta e la sorellina Adriana mai così vicina, qualsiasi curiosità a cui dare risposta, ma anche qualsiasi testimonianza di affetto, di stima e ammirazione. L'evento va in diretta Facebook sul centro.it dagli studi di Rete8 e naturalmente sul canale 10 del Digitale Terrestre è condotto da Anna Di Giorgio e Andrea Mori e seguito sui social da Ilenia Gifuni. Si può partecipare telefonando direttamente alle piccole attrici allo 08715873232 oppure viare mail a web chiocciolacentro.it o a redazione chiocciolarete8.it. Sofia e Carlotta come si sono sentite tra realtà e finzione? Lo studio ha un sapore diverso, ora si sentono tra loro ogni tanto, il rapporto con i loro genitori è uguale a primo e cambiato, hanno letto anche il secondo libro della scrittrice abruzzese Donatella di Pietrantonio, solo alcune delle domande a queste piccole e grandi donne, piccole e grandi attrici. Giovedì 9 dicembre alle 15.30 live dagli studi di Rete8.